Allora, siamo qui a Montalbano Ionico alla seconda prova del campionato italiano di minicross, un impianto che veramente ha suscitato un grosso interesse da parte nostra e sono venuto proprio per cercare di vederlo dal vivo e non solo dalle carte e dalle plenimetrie che ci sono state inviate. Sono rimasto molto sorpreso e molto colpito dalla struttura, dall'impianto in sé stesso, dalla completezza dei servizi, dalla pulizia dei servizi e questo è un discorso molto importante per quanto riguarda gli impianti, soprattutto quelli di motocross. Una pista interessante, molto tecnica e soprattutto anche la possibilità di poter fare dell'attività in pista, per pista intendo l'asfalto e quindi con un impiantino che probabilmente alla Federazione Motocicrisica Italiana potrà interessare per la crescita delle mini moto in Basilicata e nel sud in generale. Una grossa volontà da parte del gestore dell'impianto che ha fatto uno sforzo incredibile e è disponibile ancora a sviluppare e a far crescere questo impianto per renderlo sicuramente uno dei migliori e dei più appetibili per tutta l'attività della motociclistica off-road e asfalto. Il campionato italiano di riferimento e di crescita dei nostri ragazzi, il futuro del motocross passa attraverso questo campionato, i numeri sono interessanti, la qualità dei numeri ancora di più, dobbiamo essere solo soddisfatti perché abbiamo un'attività che viene gestita da un promotore che è off-road e che dà un supporto incredibile allo sviluppo di questa specialità e soprattutto dobbiamo anche pensare che il lavoro fatto dal settore tecnico federale e dalla Federazione in generale fortunatamente sta cominciando a dare dei risultati. Chiaramente dateci tempo perché i ragazzi devono ovviamente crescere. Grazie a tutti.